L'impennata di contagi da covid-19 sta mettendo a dura prova anche il lavoro dei sanitari dell'ospedale civile di Pescara dove l'arrivo di pazienti è sempre più imponente. La ASL pescarese lavora però per evitare qualsiasi tipo di disagio. Abbiamo pazienti covid, abbiamo pazienti ordinari e stiamo cercando di accogliere in modo decoroso gli uni e gli altri e questo è chiaramente impegnativo. Una situazione che probabilmente considerando che siamo a gennaio è destinata a durare ancora qualche settimana? Verosimilmente sì, anche se vediamo le proiezioni dei ricoveri covid ci dicono che ancora il picco non è stato raggiunto quindi dobbiamo aspettarci una situazione che rimarrà difficile ancora per tutto il mese, credo. Quanto riguarda i ricoveri covid, le condizioni dei pazienti e quali sono? Ci sono molti pazienti gravi? No, rispetto ai positivi diffusi nella popolazione no, abbiamo in questo momento 12 ricoveri in terapia intensiva e quindi però visto il grandissimo numero di positivi anche una piccola percentuale di ricoveri si traduce in un numero grande assoluto. La conseguenza dell'aumento di positivi si ripercuote poi anche al pronto soccorso del Santo Spirito dove gli accessi sono arrivati a livelli di guardia. I vari reparti ospedalieri registrano poi la massima capienza. Questi giorni abbiamo visto un aumento imprevisto di afflusso sia per quanto riguarda i pazienti covid che per quanto riguarda i pazienti non covid. Per quanto riguarda i pazienti covid chiaramente ci sono una crescita esponenziale dei picchi di positivi corrisponde a un incremento anche dell'afflusso in pronto soccorso. Non siamo ai numeri dello stesso periodo dell'anno scorso ma sicuramente la situazione tende ad aumentare e questo comporta un ulteriore impegno di personale da destinare a questi pazienti. L'azienda sta mettendo in campo una serie di attività progressive per cui ci sono progressivamente si attivano nuovi servizi, nuove spazie, nuovo personale per assistere questi pazienti. Dall'altro lato il rovescio della medaglia. Chiaramente la situazione climatica del momento associata appunto all'aumento della positività fa sì che ci sia un aumento al pronto soccorso anche di pazienti per lo più soprattutto anziani non covid positivi ma per altre patologie che risentono di una certa difficoltà ulteriore ad essere assistiti sul territorio per cui ricorrono in maggior numero il pronto soccorso. Stiamo cercando anche per loro di dare una sistemazione. Ieri siamo andati in affanno, oggi il problema lo stiamo affrontando e credo che l'emergenza potrebbe rientrare anche nella serata di oggi.